bella ragazzi ben ritrovati dunque stavolta sono sicuro di avere il timer ok beh dai non male una cosa seguimi siamo messi così male che sono così scarso che devono darmi un aiutante non male sto drago spero di non doverlo incontrare dunque un'altra volta dunque questo sarebbe il mio obiettivo finale solo che prima mi dice di arrivare qua dunque qual è la strada più veloce fare il giro intorno qua oppure da riverwood tentare di trovare un passo io da qui provo a girare qua dietro si vede anche un po se costeggiamo il fiume qua c'è una torre boh vedremo si vedrà si vedrà dunque diciamo che questa sarà la mia ultima spero missione obbligata eeeh ehi tu andiamo cercando una persona a white siamo pronti a pagare bene per qualsiasi informazione oh una donna una straniera in questo terreno una red guard come noi è probabile che non usi il suo vero nome pagheremo per qualsiasi informazione su dove possiamo trovarlo noi non siamo i benvenuti qui a white dunque ci troverai a rorikstack se volessi scoprire questo va bene no 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 un'altra missione così stiamo cercando una fuggiasca proveniente da Anna una red guard donna potrebbe nascondersi qui in giro va bene non sono affari che te riguardano tutto ciò che devi sapere è che siamo disposti a pagare in cambio di informazione va bene una cosa non ti interessa puoi anche andare ma poi la troveremo vabbò ecco visto che è molto secondaria votate se la farò se non la farò io al momento sono interessato alla via della voce che da quello che ho capito la voce è quella che stavo usando era di qua che ero sceso velocemente esatto un carro serve un passaggio posso portarti in qualsiasi capitale dei pelli dove vuoi andare oddio iva cacchio non c'è maledizione vediamo potevo guardare qual'era con la più vicina dunque camminata automatica qua già è ricresciuto tutto devo farci un altro giro eh 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 corri 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 dunque quali dei due ponti mi conviene attraversare e rimanere sull'altra se non c'è un cartello ecco bravi pinvergrade lo avrò pronunciato male sicuramente un'altra di quelle pietre lupi 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 non raccolgo perchè sono abbastanza messo male come peso oh cacchio scheletri non bastavano e che cavolo no 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 oh carino ho presa due ma vale cinquanta oh c'ho solo quindici disponibili adesso di peso e qua c'hanno un terzo e tu che cavolo sei ah un vigilante dai oh questo è messo meglio questo è messo meglio molto meglio scusate se ci metto tanto ma dove va no sì sì ciao 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 come è nata automatica scusate scusate che cavolo insegniamo come se ne fosse solo dieci io sempre di qua sempre di qua un coniglio no non mi metto a cacciare adesso una torre mmm vedete che devo andare di su un cervo un cervo un cervo boh visto che mi conviene costeggiare la montagna magari qua taglio un picco che c'è da quella parte buono buono perché sono permalosi dunque si è l'unica strada no no quindi qua non si va da nessuna parte locale locale no dico no va bene scendiamo strada sbagliata ma almeno un nuovo luogo imparato cioè si imparato luogo scoperto ho un cartello perfetto ma se io continuo a dire di qua risparmiamo questa cosa strana costruzione merda aia ci sono arcieri oh carina ecco sapevo esatto no ho sbagliato che cristo non è facile esatto ben ritrovati nella mia cucina scommetti che io conterò le tue cacchio buono ecco buono Salute grazie Continua Io ti libero dai Gli arcieri Qui presenti Aia Oh cacchio Questo era il capo? Si Se lo vuole No Lidia Sai cosa fare? Io sto arrivando Mamma mia Che fail ragazzi Non so dov'è Cazzo Esatto Lidia lì Ciao Lidia Urca Già il timer ragazzi Io non sono nemmeno arrivato Vabbè Io vi saluto qui Ciao